Allora, queste nella scelta di Loretz sono le equazioni dei potenziali in elettrodinamica dove ha il potenziale vettore magnetico e phi è il potenziale scalare elettrico con questi due potenziali voi potete generare il campo elettrico e il campo magnetico come il campo magnetico lo si genera così, il campo elettrico per generarlo servono tutti e due potenziali questo è uno dei messaggi molto importanti Allora, in una regione dello spazio dove non c'è nulla, dove non ci sono né cariche né densità di corrente dove rho è uguale a 0 e j è uguale a 0 queste due equazioni nella scelta di Loretz diventano queste 0, 0, rho è uguale a 0 e j è uguale a 0 Ok? Quindi nella zona vuota, nelle regioni dello spazio vuote le equazioni potenziali si riducono a queste due equazioni l'ho scritto così e così Quindi il Laplaciano, che sono le derivate seconde spaziali sono legate alle derivate seconde temporali Qua ci sono le derivate seconde spaziali Qua ci sono le derivate seconde temporali Queste sono derivate seconde pure C'è la derivata seconda rispetto a x due volte, rispetto a y due volte, rispetto a z due volte E qua c'è la derivata seconda, rispetto al tempo, è un'equazione molto importante che adesso voglio brevemente discutere Ok? Quindi, nei potenziali, questa equazione appare nelle zone dove non ci sono né cariche né densità di corrente elettrica Quindi in zone vuote Questa stessa equazione appare anche senza passare per i potenziali Appare proprio nei campi elettrici e magnetici Quindi, considerate l'equazione di Maxwell nel vuoto L'equazione di Maxwell nel vuoto, cioè dove rho è uguale a 0 e j è uguale a 0 Sono queste qua, no? Allora, per esempio, prendete questa qua Che è l'equazione di Faraday E fate il rotore di questo Fate il rotore Quindi, fate il rotore del rotore di E Allora, uscita dal punto di vista matematico C'è il teorema che abbiamo discusso e di cui siete responsabili C'è la matematica che dice che il rotore del rotore di E è uguale al gradiente della divergenza di E E sto facendo il rotore Di nuovo qua ho il segno meno che mi esce fuori e faccio l'inversione L'ordine di derivazione Queste sono derivate spaziali e queste sono derivate temporali Quindi avrò derivate seconde miste, spazio e tempo Però non sarà dipendente dall'ordine per il teorema di Schwarz Quindi questo passaggio è Schwarz Vedete che ho scambiato l'ordine e quindi ho la derivata rispetto al tempo del rotore di B D'accordo? Ma il rotore di B cosa vale per la legge di Ampere-Maxwell Nel vuoto c'è solo il pezzetto dato di Maxwell Perché non ci sono densità di corrente Ok, il rotore di B, questa roba qua, è uguale a questa roba qui Quindi questo è questa roba qua che ho la derivata rispetto al tempo Chiamato il segno Di qualcosa che è già stato derivato rispetto al tempo del campo elettrico Qui ho la derivata seconda del campo elettrico e spero del tempo Quindi in questa sequenza qua ho fatto l'uso dell'equazione di Maxwell Quindi ho fatto fisica Per lì qua ho fatto matematica E concludo che questo è uguale a questo E vedete che c'è il segno meno e il segno meno che si elidono E mi rimane questa equazione che ha lo stesso aspetto di quell'equazione lì Ho il Laplaciano che è legato alla derivata seconda pura del tempo Le derivate seconde dello spazio sono legate alla derivata seconda del tempo E' lo stesso tipo di equazione Questa equazione è lo stesso tipo di questo E potete, rapidamente lo facciamo, ottenere anche un'equazione del genere per il campo B Quindi come farei? Qua ho preso questo e ci ho fatto il rotore Prendete questo e fateci il rotore Quindi fatelo prima di me Il rotore del rotore di B Ok? Dal punto di vista della matematica questo è uguale al gradiente della divergenza di B Ma la divergenza di B comunque è sempre, sempre, sempre zero Vuoto, non vuoto, è sempre zero Meno il Laplaciano di B Ok? Questa è matematica Ma la fisica dice che questo è il rotore Per il rotore di B Il rotore di B è uguale a mu zero, epsilon zero e... Quindi è epsilon zero mu zero La derivata di E rispetto al tempo Ok? Va bene? Questo per Schwarz Epsilon zero mu zero La derivata rispetto al tempo del rotore di E D'accordo? Qua è Schwarz Ma adesso uso la fisica Cos'è il rotore di E? Il rotore di E per la legge di Faraday è meno la derivata di B rispetto al tempo Quindi qua c'è meno Questo è uguale a meno epsilon zero mu zero La derivata seconda di B rispetto al tempo Quindi ho questo Questo non c'è perché la divergenza di B è sempre zero Ho questo col suo segno meno Che è uguale a questo col suo segno meno Quindi i segni meno si evitano E concludo che è un'equazione identica a questa qua Ma solo per il campo B Ok? Sappiate fare questi passaggi Sono semplici Ci sono dei power point Quindi anche se prendete appunti da schifo Ci sono dei power point Questa equazione Che è un tormentone qua C'è qua, c'è qua, c'è qua, c'è qua E' un'equazione assolutamente importante E vorrei discutere brevemente Per farlo cancello tutto Comincio da qua E vorrei descrittere E vorrei descrivere vorrei descrivere questa equazione qua che è una versione semplice vorrei descrivere questa equazione questa qua è chiamata l'equazione delle onde poi il capelletta è tornato a un nome dell'equazione del signor D'Alembert notate è un'equazione che dice prendete una funzione f e dice che c'è un legame tra la derivata seconda rispetto allo spazio e la derivata seconda rispetto al tempo e c'è un parametro qua il parametro lo indico con la simbolo v perchè alluderà a una velocità quindi quando voi vedete questa equazione qua voi dite ecco il parametro epsilon zero su più zero lo chiamo uno su v quadro perchè questo qua cos'è il Laplaciano? è la derivata cioè la rigore questa equazione qui è questa derivata seconda di v quindi rispetto a x questa è l'equazione di D'Alembert tridimensionale 3D perchè c'è sia xy0 questo è il Laplaciano di v uguale a y0 mu0 derivata seconda di v rispetto al tempo questa è l'equazione di D'Alembert 3D onde tridimensionale quello che ho scritto lassù è l'equazione delle onde di D'Alembert pure dimensionale capirete più parlo vedete nell'equazione di D'Alembert c'è questo parametro che convenzionalmente si mette nel denominatore notate che deve avere le dimensioni di una velocità guardate queste equazioni per essere dimensionalmente sensato questo è una lunghezza addirittura lunghezza quadro perchè è la derivata seconda questa qua deve essere dunque una lunghezza quadro quindi se qua c'è il tempo al quadrato qua deve esserci una velocità al quadrato per quello si mette la velocità prima cosa cioè il parametro che c'è qui per far si che questa equazione abbia senso dimensionalmente deve esserci qualcosa qua giù che ha le dimensioni di una velocità al quadrato ok? quindi quando voi guardate questa equazione che è la versione 3D 1D non ci serve questo non ci serve quello dite ah questa roba qua deve avere le dimensioni di una velocità alla meno 2 per avere dimensionalmente senso a questa equazione visto che qua ho lunghezza al quadrato qua giù devo avere lunghezza al quadrato quindi questa roba deve avere le dimensioni di una velocità al quadrato alla meno 2 1 su una velocità quadro d'accordo? quindi voi dite ah ok questa roba qua che deve avere le dimensioni di una velocità quindi di un tempo alla meno 2 e una lunghezza scusatemi a un tempo alla meno 2 lunghezza a meno 2 cioè di una velocità di 1 su una velocità al quadrato questa velocità strana che appare qua sarà proprio la velocità della luce d'accordo? ok voglio adesso parlare dell'equazione di D'Alembert uno-dimensionale eccola qua lascio a voi convincervi della seguente cosa c'è nel power point la funzione f qua voglio cercare una soluzione di questa equazione una f che soddisfi l'equazione di D'Alembert shh l'equazione la funzione f che sto cercando può dipendere sia da x che dal tempo perchè devo fare la derivata seconda rispetto al tempo e la derivata seconda rispetto allo spazio è evidente che ho bisogno di tutte e due le dipendenze si dimostra shh che qualsiasi f qualsiasi f che dipenda da x e dal tempo nel seguente modo è soluzione se dipende da x e dal tempo in questo modo implicitamente in questo modo questa è soluzione convincetevi di questo qualsiasi funzione fate la derivata seconda a questa rispetto a x fate la derivata seconda rispetto al tempo e verificate che questo è uguale a quello con questo parametro anche verificatelo cioè voi dovete calcolare esplicitamente la derivata di una funzione così rispetto a x la derivata di questo due volte voi dovete calcolare rispetto al tempo e calcolarlo due volte cioè fare la derivata due volte intendo dire non calcolare due volte calcolare la derivata un'altra volta prima rispetto allo spazio e poi fatelo rispetto al tempo e verificate che sono uguali se moltiplicati davanti 1 su v4 proprio il v che appare qua fatelo qua come dovete fare? dovete fare l'uso del teorema della derivazione delle funzioni composte perché la f dipende dal tempo certo ma dipende dal tempo attraverso questa dipendenza qui fatelo 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 chiederò ai voti più alti ma l'enunciato è importante allora io voglio che capiate cosa sta succedendo silenzio se no siccome questa roba c'è sul powerpoint a rigore sto perdendo il mio tempo c'è già tutto vi dico guardate quegli argomenti portate all'esame faccio così? perché c'è un brusio? siete studenti? stai in piedi così? no rinfrescate la menore immaginate una funzione quella che disegno ogni anno una funzione così qualsiasi che ha due golpe assimmetri e immaginate che questa sia la dipendenza da x nell'istante t uguale a 0 nell'istante t uguale a 0 d'accordo? ok adesso immaginate che il tempo scorra questo è l'istante t uguale a 0 immaginate un altro un istante successivo nel tempo ok? quindi questo è il grafico del tempo se volete questo è t uguale a 0 e questo è un altro istante t e fate fate questo calcolo qua di questo parametro che appare qui quindi io sto sostenendo che questa è una soluzione quindi io voglio fare il grafico della funzione in un istante successivo questo è il grafico della funzione nell'istante t che aspetto avrà la funzione in un istante successivo? sapendo che la funzione ha questa dipendenza quindi voi dovete convincervi l'enunciato è che una funzione così qualsiasi funzione è una funzione arbitraria che dipenda da x e dal tempo in questo modo sarà soluzione questo è un enunciato di cui siete responsabili il mio scopo adesso è di fare il grafico di questa funzione per un istante nel futuro questo è com'è la funzione t uguale a 0 che aspetto ha la funzione a t maggiore di 3 allora cosa fate? guardate questa lunghezza è o non è una lunghezza? certo che lo è perchè x è una lunghezza e state soffrendo una lunghezza quindi supponete che la lunghezza cioè il tempo che voi nell'istante in cui voi volete fare il nuovo grafico per vedere com'è la funzione nell'istante t calcolate la distanza corrispondente a v per t alla velocità che appare qua per il tempo immaginate che sia che so che sia questa carnetza qua faccio qualcosa che sia che io posso riproporre con la mia mano eccolo qua si riesco a riprodurlo figuramente questa sia la distanza v p è una distanza quello io sostengo questa è una distanza è il prodotto del tempo l'istante in cui volete fare il grafico nuovo per il valore del parametro velocità che sta fallendo qui cioè qui ok? io sostengo che questo grafico nell'istante t è questa funzione spostata a destra di quale distanza? proprio di questa distanza qua quindi la disegno e poi vi convinco allora io per esempio prendo questa grandezza qua e devo spostare questo picco qui devo spostare questo picco qui devo spostare questo punto qui quindi questo punto qua va a finire qui mi aiuto con i colori perchè se non capisco niente questo punto qui va a finire qui e questo punto bianco vabbè dai questo punto bianco va a finire qui mentre questo punto bianco quindi io devo fare la stessa funzione magari lo faccio in giallo quindi lui deve andare su aiuto? deve andare su così una cosa leggere dovete immaginare la stessa funzione traslata rigidamente la stessa funzione traslata rigidamente attenzione traslazione rigida quando dico rigida integra una cosa molto precisa senza distorsioni senza distorsioni verso testa e siccome il tempo sta scorrendo questa traslazione avviene con una certa velocità qual è la velocità di traslazione senza distorsioni? proprio v quindi la traslazione rigida senza distorsioni verso destra alla velocità v cioè questa curva gialla questa curva si sta spostando verso destra alla velocità v vediamo da riuscire a convincere di questo per esempio per esempio io sto facendo la funzione gialla ok? io voglio fare in un certo punto che so in questo punto qui nel punto x questo punto x io voglio plottare che di nuovo è la parola inglese io voglio fare il grafico del valore della funzione nel punto x cosa devo fare? questo mi dice che nel punto x non devo prendere il valore f di x no, non devo prendere f di x ma devo prendere il valore della funzione non nel punto x ma nel punto a sinistra x meno vt quindi in questo punto qua io non devo prendere quello che per la curva bianca è zero ma devo prendere il valore che è a sinistra di una distanza vt questa è la distanza vt quindi io devo mettere in questo punto il valore che ho qui cioè questo punto qua l'avete visto? cioè io devo mettere sul grafico nel punto x il valore non nel punto x ma nel valore x meno vt fatelo per diversi punti convincetevi cosa ve ne ha fuori per esempio io voglio questo punto qua questo minimo io voglio non lo so ancora io voglio il valore da mettere sulla lavagna in corrispondenza di questo punto x cosa devo fare? devo prendere questa distanza che è la distanza vt mettermi a sinistra qui e mettere il valore che trovo qua ecco il valore che trovo qua quindi in questo punto devo mettere quel valore lì avete capito? c'è qualcuno che non ha capito? questa mi sta dando la ricetta per fare il grafico la ricetta non è questa la ricetta di qual è il valore della funzione nel punto x non è il valore della funzione del punto x ma è il valore del punto x meno vt quindi sistematicamente in questo punto vado a disegnare il punto corrispondente qua giù e in questo punto vado a disegnare il punto corrispondente qua e in questo punto il punto corrispondente qua quindi sistematicamente tutto quello che è a sinistra verrà spostato a destra se vi fermate a pensare ma vi dico qualcosa di più che si dimostra e dovete dimostrarlo dovete essere responsabili dell'enunciato e possibilmente anche la dimostrazione che non è difficile che non è solo questa qualsiasi funzione f guardate ho fatto una cosa a gobba così qualsiasi funzione basta che dipenda da x e da t in questo modo sarà soluzione ma anche questa sarebbe soluzione col segno più quindi sia col segno meno che col segno più avrò soluzione ma che aspetto ha la funzione f di x più vt? cosa sarà? invece di avere la funzione a due gobba che trasla verso destra senza distorsioni ce l'avete che trasla verso sinistra senza distorsioni quindi se voi prendete questa avete la funzione a due gobbe che è spostata qua adesso quindi questa è la posizione del massimo quindi è così sta spostando per di qua quando c'è il segno più qua quando c'è il segno meno quando c'è il segno più la traslazione rigida senza distorsione avviene verso sinistra senza distorsione cosa vuol dire? che se avete un picco a sinistra e un picco più basso da destra si sposta mantenendo la sua forma non fatevi ingannare si sta spostando di qua col segno meno la traslazione senza distorsione verso destra col segno più la traslazione senza distorsione verso sinistra con quale velocità c'è la traslazione? com bu chiaro? e deve essere molto chiaro che questa è una qualsiasi funzione qualsiasi funzione qualsiasi funzione di modo questi sono i disegni che ripropongo ogni anno potreste avere che so il profilo della testa di Batman Questa è una funzione, qualsiasi sia questa funzione G se la faccio dipendere da x e da tempo in questo modo questo qua cos'è? Immaginate due funzioni così questa la faccio traslare per di là questa la faccio traslare per di qua cioè questa qui per esempio è una fx-vt questa qua è una gx-vt dove la funzione f, per esempio questo vale 1 la funzione vale 1 per questi valori di x e vale 0 da qualche altra parte tranne quell'intervallo lì, mi capite? è una funzione gradino, una funzione rettangolare la f è una funzione rettangolare questa è la funzione f, è 0 ovunque poi vale 1, è 0 ovunque la funzione G è 0 ovunque poi è 1 e poi è 0 ovunque questa è la funzione gialla questa è la funzione bianca tutte e due sono soluzioni dell'equazione di D'Alembert è quello che vi sto dicendo e vi dico anche qualcosa di più che è una qualsiasi combinazione lineare di questa soluzione se prendete questa e la moltiplicate per A fate un rettangolo più alto più basso sarà lo stesso, è una funzione che dipende da x e t in quel modo qualsiasi funzione che dipenda da x e da t in quel modo speciale sarà la soluzione quindi questa è una soluzione, questa è la soluzione la somma è una soluzione l'equazione di D'Alembert prese due soluzioni la somma è una soluzione cosa succede nel tempo? questo trasla verso destra questo trasla verso sinistra cosa succederà? a un certo punto dove lo disegno mannaggia me avrei potuto fare un fumetto facciamolo il fumetto tutto quello che sto dicendo tutto quello che sto dicendo quando Maxwell ha fatto le sue manipolazioni quando Maxwell ha manipolato le sue equazioni nel vuoto e ha ottenuto questa equazione qui ha fatto un salto sulla sedia e ha capito di essere entrato nella storia perchè questa equazione lui la conosceva già dagli studi di fisica che la gente studiava già con la fisica di Newton già da un po' di tempo lui ha capito di essere entrato nella storia perchè ha detto subito una cosa che il campo elettrico nel vuoto si comporta come una onda e ha capito che la velocità di propagazione è proprio questa combinazione qui e ha capito che si comporta come un'onda e quando ha capito tutto quello che io vi sto dicendo si applica alle onde elettromagnetiche quello che sto parlando è di onde e lui ha capito che il campo elettromagnetico non è vuoto è un'onda si comporta come un'onda si può comportare come un'onda forse è la cosa più corretta si può comportare come un'onda perchè se io ho una carica statica e crea un campo colombiano non è mica un'onda ma basta che io lo faccia muovere e sono nell'elettrodinamica e anche qua fuori avrò nella zona dove non ho cariche e dove non ho densità di corrette avrò questa equazione qui quindi cosa succede? facciamo il fumetto questa è la funzione bianca questa è la funzione gialla dopo un intervallo di tempo questa è un'inquadratura dopo un altro un po' di tempo questa si sarà spostata a destra e questa si sarà spostata adesso devo fare un disegno un po' in scala no? non vi pare? quindi se faccio spostare questo spigolo di questa quantità qua ok? questa deve spostarsi la stessa quantità quindi adesso è qui non vi pare? questo si sta spostando questo si sta spostando con la stessa velocità potete capire che questo disegno avrebbe fatto con estrema cura credo averlo fatto decentemente nel power point perchè nel power point si fa presto a fare questi disegni no? quindi questo è un certo istante questo è un istante successivo cosa succede? quindi questo si sarà spostato qua e questo qua si è spostato dove? si è spostato qui però quando sono sovrapposti quando sono nello stesso zona dello spazio nello stesso tempo in realtà ho la somma che è la soluzione quindi in realtà mi si presenta così no? giusto? perchè ho questo più questo cioè facciamo il giallo dov'è il giallo? questo è il giallo questo è il giallo questo è il giallo ma è la somma che è la soluzione quindi bianco più giallo e quindi bianco più giallo che è questo qui è la somma che è il giallo questo è il giallo questo è il giallo e il bianco che è questo qui è la somma è il giallo eh? poi cosa succede al passare del tempo? il blu si trova di qua e il giallo si trova di qua ognuno che continua per la sua strada c'è stato un attimo in cui erano nella stessa zona dello spazio in questo istante le funzioni giallo e blu sono in punti diversi dello spazio si stanno avvicinando c'è un istante ci sono degli istanti dove si trovano nello stesso punto dello spazio nella stessa zona poi si separano cosa sarebbe successo se la funzione questa qua avessi moltiplicato per un meno 1 se questo fosse stato meno g cioè se b questo è a e questo è b se io ho detto va bene a uguale 1 e b uguale 1 ma se b uguale a meno 1 la funzione gialla non sarebbe stata questa ma sarebbe stata questa e quindi la funzione bianca che è la somma sarebbe stato 0 qua e poi così no? giusto? questa si chiama interferenza distruttiva quella di prima interferenza costruttiva le onde si passano attraverso come fantasmi ma quando sono dello stesso posto si sommano le ampiezze se sono dalla stessa segno algebrico allora avete interferenza costruttiva se uno ha un'ampiezza di segno opposto avrete interferenza distruttiva quindi paradossalmente se queste due funzioni fossero state assolutamente identiche ma solo uno ribaltato quindi la funzione gialla fosse stata identica anche come durata c'è un istante quando sono nello stesso zona dello spazio in cui la funzione blu è così la funzione gialla è così e per un attimo cosa vedete? 0 si sono distrutti per un po' perché poi proseguono la loro strada e dopo che si sono compenetrati troverete la blu che è di qua e la gialla che è di qua d'accordo? ma per un attimo si sono annullate la vicenda d'accordo? questa distruzione è totale giusto? quindi Maxwell ha capito che questo avviene nelle onde elettromagnetiche perché è la stessa equazione questa è la matematica di questa equazione in particolare tra le tante funzioni che io questa è qualsiasi funzione quindi scegliamone una importante molto importante questa funzione qua coseno allora lo studente ha capito si ho capito, ho capito ho capito e scrive track una funzione coseno che dipende da x dal tempo così è soluzione dell'equazione della verma io poi schiaffeggio sulle mani e dico è una buona idea però c'è un errore fatale Fatal error System Crash eh? qual è l'errore? che questa roba qua ha le dimensioni di una lunghezza e il coseno oltre ad essere una funzione adimensionale l'argomento del coseno deve essere adimensionale quindi io sono obbligato sono obbligato sono obbligato a scrivere così ho bisogno di scrivere qualcosa qua che abbia le dimensioni di una lunghezza da meno uno sono obbligato devo scrivere qualcosa qua e il simbolo che convenzionalmente si usa è il simbolo K quindi le dimensioni di K è di una lunghezza alla meno uno sono obbligato obbligato ma quando faccio questo ecco che io ho una soluzione dell'equazione di D'Alembert quindi ho un coseno che trasla originariamente senza distorsioni verso destra se era così ce l'avevo che traslava verso sinistra d'accordo? che ore sono? meno 20 faccio più meno 18 vabbè più o meno discuto il caso o meno porto il K sotto ok? silenzio per cortesia questa combinazione qua K per V che dimensioni ha? K deve avere dimensioni tutta questa roba deve avere dimensioni di un tempo alla meno uno perchè tutto questo deve essere dimensionale quindi K per V deve avere dimensioni di un tempo alla meno uno ok? e questo K per V convenzionalmente si scrive col simbolo Omega quindi stiamo scrivendo questo dove V è uguale a Omega diviso K questa cosa qua ha le dimensioni di una lunghezza alla meno uno questa ha le dimensioni di un tempo alla meno uno deve essere molto chiaro che dimensioni di K è uguale a una lunghezza alla meno uno dimensioni di Omega è uguale a un tempo alla meno uno e la combinazione Omega diviso K è proprio la velocità che ci serve questo è quello che ho fatto quindi di nuovo la sequenza cos'è? faccio coseno x meno vp no faccio coseno Kx sono obbligato e poi non faccio altro che portare dentro questo è ragionale questa è la scrittura convenzionale con questa raccomandazione però che questa K questa Omega hanno opportune dimensioni e questa combinazione Omega diviso K è proprio la V quindi qua la V non la vedete più la velocità di propagazione ma c'è c'è eccola qua d'accordo? adesso voglio convincervi cosa sta succedendo quindi trascrivo questo caso così mi libero un po' di lavagna K si chiama il numero d'onda si chiama il numero d'onda Omega si chiama la pulsazione ovviamente ovviamente K del sistema internazionale si misura in metodo meno uno Omega del sistema internazionale si misura in metodo meno uno vi ricordate questo? io non lo penso come la parte reale di questo quindi questo qua lo penso come la parte reale di questo e per gli esponenti vedete che ho ripasso ogni opportunità per ripassare quindi questa qua la penso come la parte reale del numero di Olero e ho due numeri di Olero ho un numero di Olero che descrive la dipendenza dello spazio e ho un numero di Olero che descrive la dipendenza del tempo notate che io ho esordito parlando di questa funzione quindi la propagazione è risida senza distorsione verso destra qui c'è un segno meno e qui c'è il segno meno qui se questa fosse stata la propagazione verso sinistra avrebbe avuto più e l'assi sarebbe stato più il segno meno viene dalla mia scelta iniziale quindi in ogni punto dello spazio io voglio immaginare che ci sia io voglio fare un problema 1D un problema 1D quindi è la traslazione lungo l'asse X al passare del tempo, d'accordo? quindi io farò una sequenza qui vediamo se mi riesce questo rappresenta il tempo questo è il tempo time o l'inglese non guasta cosa vogliamo fare la lezione in inglese? qualcuno mi ha chiesto professore potrebbe gentilmente fare una lezione intera in inglese? sarebbe tanto interessante questo è l'asse X questo è t uguale a 0 x uguale a 0 ok? adesso io in ognuno di questi punti anzi permettetemi di fare come potrei fare non voglio ancora fissare gli assi ma voglio dire che di qua c'ho lo spazio poi metto gli assi dopo e qua c'è il tempo non ho ancora messo assi X e asse tempo con l'origine voglio semplicemente dire che disegnerò verso la verticale il tempo che scorre e non risultare lo spazio d'accordo? quindi io disegnerò adesso un sacco di cerchi dovete fare pazienza aver pazienza è fatto anche voi non aspettare pazientemente disegnerò dei cerchi perché cerchi? perché in ogni punto dello spazio voglio piazzare il numero di olero e il numero di olero è essenzialmente un numero complesso che gira su un cerchio unitario nel piano dei numeri complessi quindi in ogni punto dello spazio io immagino di avere un numero il piano dei numeri complessi in questo punto deve immaginare di avere il numero di olero che è di nuovo un numero complesso che gira lungo un cerchio in Italia quindi disegno un cerchio qua, allo stesso istante del tempo disegnerò in un altro punto dello spazio un altro cerchio un altro cerchio un altro cerchio dovete cercare di disegnare gli equi distanti e più o meno lo stesso diametro e mi fermo qua perché mi sono stufato qua in un altro istante del tempo quindi questo se volete sono i numeri complessi nello spazio a questo istante qua disegno altri cerchi quindi molta pazienza silenzio è fatto sul powerpoint di nuovo vi minaccio arrangiatevi o state zitti costa fatica a me e se vi conviene cercare di starvi dietro se siete troppo tigri per disegnare questi cerchietti cercate di capire o di anticipare cosa sto per fare cosa sto per fare sto per implementare questa ricetta chiamerò questo che so t uguale a zero e questo a posizione x uguale a zero quindi questo è disegnerò su questo piano complesso il numero complesso che pertinente all'istante t uguale a zero x uguale a zero dove sarà? se so che so buffo però non ho alternative se no faccio errore di fare l'asse poi avete di nuovo i quadretti che io non li ho poi disegniamo altri cerchi ma voglio cominciare già a mettere la carne sul fuoco in questo punto che freccia disegno? che colore facciamo? in giallo quando t uguale a zero e x uguale a zero cosa ho? questo è uno e questo è uno quindi ho questo vettore qua dovete immaginare come lancetti di un orologio in quel punto la la lancetta è ora quello è il numero complesso 1,0 1 parte reale 1 0 parte immaginaria è il numero 1 che tutti conosciamo no? qua cos'è il disegno? t è sempre uguale a zero quindi questo non sta cambiando e questo sta cambiando quindi sto cambiando la x ho aumentato la x quindi questo numero complesso sta girando in senso anti-orario quindi supponiamo che in questo punto io lo faccio andare che sono a mezzogiorno qua cosa disegnerò? qua cosa disegnerò? siccome sono incrementi irregolari di x allora se andare da qua a qua il numero complesso è girato di 90 gradi quella lancetta dell'orologio è girata di 90 gradi qua girerà di altro 90 gradi capite cosa sto facendo? sto aumentando l'esponente di qua sto aumentando questo quindi il numero complesso si sta girando in senso anti-orario quindi se lui è girato in 90 gradi qua sarà girato così qua sarà girato così qua sarà girato così qua sarà girato così eccetera adesso considero questi punti questi chi sono? questi sono lo stesso x la stessa posizione ma in istanti diversi la stessa x x uguale a zero ma in istanti diversi quando x uguale a zero questo è il numero uno quando t uguale a zero abbiamo detto questo uno ma adesso incremento il tempo sto scendendo nel disegno sto andando in un altro istante del tempo e adesso quando aumento il tempo questo numero complesso in che direzione ruota? in senso orario questo girava in senso anti-orario perché c'è il segno più questo con il segno meno gira in senso orario quindi tanto per fissare le idee supponete che in questo intervallo di tempo questa freccia abbia girato in senso orario di un quarto quindi in un intervallo di tempo uguale questo numero complesso ruota di un altro 90 gradi in senso orario è così un altro eccolo così riempite questo a t uguale a zero a t allo stesso incremento questo girerà in senso orario così questo così questo così questo così questo così questo così correggetemi se sbaglio eh siete intelligenti voi avete più di me avete più neuroni di me ormai magari i miei sono connessi meglio dei vostri però le potenzialità vostre sono molto superiori ormai le mie le mie potenzialità sono decrede decrede ma puttano andando a puttana invece voi riuscite nella 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 mh? conteniamo un po' guardate 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 se io vi chiedo di guardare questo punto qui alla fase cioè all'orologio alla lancetta a ore 3 a ore 3 trovate un altro punto che ha l'orologio messo lo stesso modo eccolo qua eccolo qua eccolo qua nella posizione x poi lo trovate qua si è spostato a destra 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 si stanno spostando a destra i punti che hanno le lancette messe così si sta spostando verso destra quindi continuiamo un po' tanto per avere di nuovo questo che ha solo un'altra fila di cerchi quindi dov'è giallo per arancione quindi di nuovo quando vado nella direzione a x costanti ma all'aumento del tempo giro il senso orario dovete stare attenti quindi questo tra questo dovrà girare il senso orario questo dovrà girare il senso orario questo dovrà girare il senso orario senso orario senso orario d'accordo? guardate qual'è la distanza fissatevi a un certo istante del tempo il certo istante del tempo vuol dire guardate una riga e cercate due punti nello spazio allo stesso istante due punti nello stesso istante che hanno la stessa fase cioè che l'orologio ha la lancetta allo stesso modo cioè che il numero complesso va allo stesso qual'è la distanza tra quei punti? eccolo qua questo qua ha la stessa fase questa distanza qua ok dove in un certo istante lo spazio che dovete spostarvi in un certo istante per trovare la stessa fase si chiama lunghezza d'onda io devo spostarmi in un certo istante come se io facessi una fotografia tac ho una istantanea in un certo punto della foto io ho il valore di fase che ha attratto la mia attenzione cerco nella foto un altro punto che ha lo stesso valore di fase quella distanza si chiama lunghezza d'onda questa si chiama lunghezza d'onda è indicata con la lettera lambda ok? quindi lambda è la periodicità spaziale ci sarà una periodicità temporale quindi scegliete un punto nello spazio un punto e fate passare il tempo quanto tempo deve passare affinché la fase si ripeta trovate lo stesso valore di fase questo è il valore ore 13 a ore 15 qual è l'intervallo di tempo in questa posizione dello spazio quindi quando scegliete un posto dovete rimanere nella colonna di questo disegno e in questa posizione dello spazio quanto tempo deve trascorrere per trovare la freccia gialla nella stessa posizione questa qua quindi questo intervallo di tempo lo faccio in rosso questo intervallo di tempo che è la periodicità spaziale scusatemi temporale periodicità temporale si chiama il periodo e si indica con la lettera t quindi avete una periodicità spaziale avete una periodicità temporale e vedremo questo pomeriggio forse vediamo che oggi abbiamo 3 ore dovremmo riuscire a farci che la lunghezza d'onda è uguale a 2 pi greco fratto k è il periodo e 2 pi greco fratto omega vedremo questo pomeriggio a questo punto cioè questo k che appare qui è legato alla periodicità spaziale 2 pi greco diviso k vale la distanza che dovete spostarvi in un certo istante del tempo per ritrovare il valore del numero di eolero oppure il valore della fase eccetera 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 e di nuovo deve essere molto chiaro questo è il mio tic che questo punto qua si sta spostando verso destra con la velocità v eh? questa distanza in questo tempo è la velocità quindi da questo disegno vedete che la velocità di una è uguale a lambda diviso il periodo eh? infatti se mettete dentro la formula questa tante volte è scritta così uno sul periodo è chiamata tante volte la frequenza eh? e quindi la formula da ricordare è che la velocità di propagazione di questa dei punti di ugual fase i punti che hanno un certo modo di fase si propaga verso destra con una certa velocità la velocità di propagazione la velocità di fase chiamata anche la velocità di fase cioè questa fase si ripropone i punti diversi dello spazio al passare del tempo si sta spostandolo d'accordo? questa tante volte è scritta così lambda per la frequenza quindi questa formula qua dovete tatuarlo sul vostro corpo con questa come anche questa ovviamente queste due formule dicono esattamente la stessa cosa perchè questo è il legame tra k e lambda tra omega e t questa formula in teoria l'avete visto? chi ha visto questa formula? alzate bene la mano poche persone direi un terzo l'hanno visto ci vediamo alle due che 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 Grazie a tutti